E' il migliorero dei Contri di Espina Colta E' il giudizio García di Santa Catarina Espina Negra Si escuche la storia di una vera, no? E' il giudizio García di Santa Catarina 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 Vamo con l'esercizio in questo combattio! Adarne! Vamonos, grazie! Vamonos Emilio! Vamonos, grazie! Grazie! S'è l'esercizio al cambio de combattio! Dematalo a bajo, Emilio! De abajo, para arriba! Vamonos, a tanto que los dos peladores son triunfadores en el torneo de Guantes de Oro. Vamonos, grazie! Sì, 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 sì. Empeza con finta, di nuovo metete. Allì! Abre ese spazio Emilio, vamo! Excelente golpe! Pega e sale Emilio! Pega e sale Emilio! Pega e sale Emilio! Pega e sale Emilio, contraatacalo! Contraataca! Allì! Allì! Pega e sale Emilio! Diez segundos! Vamo Emilio! Vamo Emilio! Vamo Emilio! Tiempo! Vamo Emilio! Vamo Emilio! Vamo Emilio! Vamo! 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 Vamo Emilio! Vamo! 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 Eccoci il amparo le mani! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.